Durerranno circa un anno i lavori di riqualificazione in via Andrea Doria Pescara, lo ha dichiarato l'assessore comunale lavori pubblici e mobilità Luigi Alboremascia, presentando il progetto di riqualificazione del lungo fiume sud a Pescara. Oggi vediamo alle nostre spalle questo muro che divide l'area golenale dal resto della città e con questo progetto noi cambiamo di fatto proprio tutta la conformazione di questa zona. Grazie ad un finanziamento dello Stato sono disponibili 6.123.000 euro. Un intervento, ha sottolineato l'assessore Alboremascia, per rendere più sicura l'arteria stradale, ma soprattutto per rendere fruibile gran parte della banchina sud del porto canale e sarà inoltre prolungato il raccordo autostradale Chieti-Pescara fino al porto tramite l'ampliamento di via Andrea Doria. Questo intervento crea finalmente un connubio anche tra questa zona di Porta Nuova il nostro fiume che è comunque un elemento fondamentale della nostra città. Questo intervento prevede un bel vedere, prevede delle aree verdi, prevede lo spostamento della linea di divisione tra la città e l'area demaniale e prevede tra l'altro anche degli interventi di messa in sicurezza perché migliorerà non solo l'illuminazione che è fondamentale, ma miglioreranno anche tutte le misure necessarie a prevenire allagamenti, a prevenire l'esondazione del fiume, proprio perché quest'opera e questo intervento deriva da una collaborazione con oltre 15 enti. Questa è anche un'occasione fondamentale per intervenire su quell'area della riviera sud, quella di via Cristoforo Colombo, che è mancante rispetto ad una riqualificazione negli anni, che è stata molto apprezzata dai cittadini e anche dai turisti che sopraggiungono a Pescara, che ha riguardato tutta la lunga riviera sud. C'è un pezzo mancante, che è quello che va dalla zona sud del Ponte del Mare fino a via Vespucci e quest'intervento riguarderà anche questa parte significativa della città. Per consentire lavori di riqualificazione, che dureranno, come già detto, circa un anno, saranno imposti dei divieti alla viabilità. Noi garantiremo la viabilità, almeno a senso unico alternato, per quanto riguarda il tratto che andrà da via Bardet fino a lungomare Cristoforo Colombo, quindi in direzione Mare Monti, e manteremo la viabilità ugualmente su una carreggiata stradale nel tratto fino all'intersezione con via Bardet nella parte che va da Monti-Mare. E quindi poi il traffico sarà deviato su via Bardet, ma chi viene da sud e quindi percorrerà la nostra riviera può risalire lungo la strada in cui ci troviamo attraverso una carreggiata che rimarrà disponibile nel tratto fino a via Bardet dal lungomare Cristoforo Colombo.